Salve, il mio nome è Victor Talavera, sono l'inventore di Split Ender Pro, il primo strumento al mondo in grado di tagliare le doppie punte dei capelli. Si tratta di uno strumento professionale che può tagliare un quarto di pollice, ovvero 6 mm di doppie punte di 150.000 capelli in 30 minuti, o anche meno, e, cosa più importante, senza alterare la lunghezza dei capelli né modificare il taglio della cliente, e questo è sorprendente. Split Ender Pro è un dispositivo professionale, veramente rivoluzionario, unico, che ti dà l'opportunità di offrire un nuovo servizio ai tuoi clienti e anche loro ne rimarranno soddisfatti. I vantaggi di Split Ender Pro sono molti, tanto per te quanto per le tue clienti, quindi se sei un parrucchiere, il proprietario di un salone o un cliente, guarda questo video, perché potrai scoprire cosa Split Ender Pro può fare per te. Buona visione! Fase 1. Preparazione dei capelli. Lava i capelli della tua cliente in modo da rimuovere ogni traccia di untuosità naturale o qualsiasi residuo di prodotto precedentemente applicato. Fase 2. Asciugatura dei capelli. I capelli devono essere completamente asciuti e privi di nodi per essere certi che Split Ender Pro non tiri i capelli della cliente. Fase 3. Trattamento. Adesso che abbiamo i capelli perfettamente puliti e completamente asciutti, li dividiamo in sezioni e siamo pronti per iniziare il trattamento. Ricorda che Split Ender Pro funziona alla perfezione solo su capelli ben puliti e completamente asciutti. Sui capelli non deve restare alcun residuo di prodotto che li renda appiccicosi perché ogni capello deve scivolare singolarmente attraverso le lame, rimanendo ben separato l'uno dall'altro, in modo che le lame possano tagliare esattamente un quarto di pollice, ovvero 6 mm, di ogni singolo capello. Adesso iniziamo il trattamento. Prendi la prima ciocca dei capelli e questa è la più importante perché da questa prima ciocca capirai quanti passaggi ti servono per riparare il danno sui capelli di questa persona. Per il primo trattamento di una cliente dovrai fare tre passaggi sulla prima ciocca e sentire i capelli, ma prima di iniziare ti consiglio di prendere la ciocca e chiedere alla tua cliente di scorrerla semplicemente tra le dita. Sentirà i suoi capelli secchi e increspati. Così poi quando avrai finito i tre passaggi e chiederai alla cliente di scorrere di nuovo la ciocca, la sentirà scorrevole e setosa. Questo vorrà dire che tre soli passaggi per ogni ciocca saranno sufficienti per riparare questi capelli, quindi dovrai continuare su tutta la capegliatura con tre passaggi per ogni ciocca. In questo modo il taglio dei capelli non cambierà e questo è molto importante. Può capitare che non siano sufficienti tre passaggi per ottenere un risultato ottimale. In questo caso potete procedere con un quarto o anche un quinto passaggio e se fossero cinque i passaggi necessari per ottenere i capelli soffici e setosi, allora dovrete procedere con cinque passaggi su ogni ciocca per tutta la capegliatura. Il taglio dei capelli resterà comunque invariato. Sblocco. Apri la pinza. Muovi la leva posizionata sotto il dispositivo spostandola dalla posizione lock on alla posizione lock off. Prima di iniziare vorrei sottolineare che Split Handler Pro è progettato per essere comodamente utilizzato sia con la mano destra che con la sinistra. Se siete destri come me, selezionate la freccia rivolta verso il pavimento. Se siete mancini, ruotate il dispositivo e selezionate comunque la freccia rivolta verso il pavimento. Ora, selezioniamo la mia freccia rivolta verso il pavimento, prendiamo una ciocca sottile e cominciamo dalla parte alta. Ricorda, non prendere troppi capelli. La ciocca deve essere sottile per non tirare i capelli della cliente. Chiudi il dispositivo e il motore si avvia. Stieni la ciocca vicino alla radice per evitare di tirare i capelli della cliente e scorri dolcemente per tutta la ciocca. Come puoi vedere, la lunghezza dei capelli resta la stessa. Continua e ripeti questo passaggio tre volte sulla prima ciocca a questa velocità. Come potete notare, vediamo già l'ucentezza sui capelli e sentiamo già la morbidezza. Ma è necessario continuare e completare il trattamento con il terzo passaggio e confermerà che i capelli sono morbidi e setosi. Inoltre la lunghezza è rimasta la stessa e ora sì che i capelli sono davvero più morbidi e più setosi. Quindi, a questo punto, mettiamo da parte questa ciocca facendo bene attenzione a non mescarla con quelle ancora da trattare. Devi continuare con tre passaggi su tutte le altre ciocche. Adesso ripeti gli stessi passaggi sulla seconda ciocca. Una sezione di capelli sottile nella pinza. Seleziona la freccia rimotta verso il basso e scorri il dispositivo a questa velocità. Di tanto in tanto vedrai che le punte tagliate si accumulano nel raccoglitore. Quindi, fermati un solo minuto per rimuoverli. Togli il coperchio trasparente, rovesci i capelli tagliati e poi richiudi. E potrai tornare nuovamente a lavorare perché così la lama raggiunge meglio le punte da tagliare che vengono poi raccolte nel recipiente vuoto. Bene, continuiamo con la prossima ciocca. Taglierai solo la parte finale dei capelli, ovvero le punte danneggiate, rovinate e secche. I capelli ricresceranno più velocemente e saranno più belli e più sani di prima. Impostazioni di taglio Split Under Pro è dotato di due lame con diverse lunghezze di taglio, una da un quarto di pollice, cioè 6 mm, e una da un ottavo di pollice, 3 mm. Il primo trattamento deve essere effettuato con la lama da un quarto di pollice, 6 mm, in modo da rimuovere completamente tutte le doppie punte. Poi successivamente, ogni mese, si ripete il trattamento con la lama da un ottavo di pollice, 3 mm. Così rivedrai la tua cliente ogni mese per il trattamento di mantenimento, invece che ogni tre mesi per il servizio di taglio. Questo è il bello di Split Under Pro. E il risultato Adesso abbiamo finito con i suoi capelli. E come puoi vedere, Split Under Pro non ha modificato minimamente la lunghezza. Così le tue clienti saranno ben felici di eliminare davvero solo la parte finale dei loro capelli, ovvero le punte rovinate, conservando la lunghezza dell'acconciatura. Per maggiori informazioni visita il sito www.splitenderpro.com Ti prometto che rimarrai soddisfatto tu e anche le tue clienti. Grazie